signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e nonostante le premesse a quanto pare sono riuscito a tornare vivo da lucca quest'anno niente acquazzone fortunatamente anzi faceva fin troppo caldo sorprendentemente tra l'altro quest'anno le date si sono accavallate bene quindi non ho avuto un giorno per girare questo video ma ho avuto ben una settimana in realtà non è vero adesso è domenica sera probabilmente ci sarà qualcuno che ha ancora lucca in questo momento mentre sto girando ma durante la settimana tutto il lavoro che ho dovuto ritardare per la via di la lucca da fare quindi comunque c'è poco tempo ma non così poco comunque anche quest'anno sono riuscito a scendere quindi come la tradizione vi porto con me per farvi vedere cosa ho visto e per far rosicare quelli non ci sono potuti andare e in realtà quest'anno gli appuntamenti interessanti sono cominciati ancora prima della manifestazione vera e propria perché martedì sera con la scusa che mi trovavo in zona io e simius ludens abbiamo potuto fare una live in con presenza e chi se la fosse persa vi lascio il link qua in alto perché io ero lucca lui in realtà è della zona e quindi la nostra tradizionale serie sul world building abbiamo potuto registrarla e streamarla direttamente dall'albergo in cui io stavo che potrà sembrare un evento relativamente poco significativo ma in realtà è la prima volta in nove anni di canale che io appaio fisicamente assieme un altro youtuber in un video quindi per me è un traguardo ma immagino che voi non siate qui per sentire parlare dei miei traguardi siete qui per sentire parlare dei lucca comics 2024 quindi non perdiamo altro tempo andiamo a vedere cosa c'era all'edizione di quest'anno mercoledì mattina ci siamo svegliati presto perché dovevamo andare a recuperare le fascette fortunatamente quest'anno sarà perché siamo arrivati proprio il mercoledì mattina alle otto e perché c'era meno affluenza degli altri anni non abbiamo dovuto fare un'ora di coda per prendere i biglietti c'era un numero di persone ragionevoli davanti a noi anche se come sempre avevano cambiato il posto della biglietteria oramai lo fanno ogni anno quindi mi hanno dovuto girare un attimo per trovarla tra l'altro sull'app da cellulare dei lucca comics non era indicato il posto dove avevano messo le biglietterie quindi c'erano un sacco di persone che giravano come gallina senza testa per cercare di trovarle ma sulla cartina dei lucca comics la posizione delle biglietterie era indicata sì sulla cartina quella che ti danno dopo che hai preso il biglietto alla biglietteria dove ti danno la cartina su cui è indicato dove porta a prendere il biglietto ecco appunto ora essendo io il master kai il mio primario interesse lì alla manifestazione era proprio il gioco di ruolo quindi la cosa migliore da fare era andare il più velocemente possibile al padiglione carducci dove lo stand games per cercare di arrivare lì prima che poi arrivasse tutta la ressa e nonostante non fossero neanche le 10 del mattino non solo c'era coda per entrare a carducci ma c'era una coda per fare la coda per entrare al carducci e quella coda arrivava fin sopra le mura abbiamo quindi deciso di lasciar perdere andare a vedere qualcos'altro dopo tutto chi ha mai detto che la cosa migliore andare a vedere per prima la cosa più interessante ci siamo quindi incamminati per le vie del centro e siamo andati fino al padiglione napoleone che sarebbe poi lo stand comics per vedere un po se c'erano delle novità interessanti quest'anno qui almeno la fila scorreva bene siamo riusciti a entrare quasi subito il che non vuol dire che non ci fosse gente ma c'era un numero ragionevole di persone quindi potevi vedere anche le bancarelle degli espositori e non solo gli zaini di quelli accalcati davanti sarà anche perché negli ultimi anni ho deciso di tagliare la testa al toro invece di fare quell'intrico labirintico hanno preso un unico padiglione enorme in modo da poterci far star dentro anche la statua che c'è al centro della piazza e io mi metto nei panni anche di un ipotetico turista straniero che non ha mai visto lucca che non si è reso conto che quella non faceva parte dell'esposizione anche perché c'era un bel po' di gente che la fotografava quindi credo qualcuno sia successo davvero usciti da lì però c'era un'altra cosa che non vedevo l'ora di vedere perché quest'anno in occasione del cinquantenario di dungeon on sand dragon hanno organizzato una mostra di tutti gli artwork più significativi nella storia del gioco che può sembrare strano ma in realtà sono opere estremamente influenti perché non solo sono l'evoluzione dello stile di dungeon on sand dragon ma hanno influenzato pesantemente anche tutta l'estetica del fantasy e non solo a livello globale ci siamo quindi spostati alla chiesa dei servi che per l'occasione era diventato un museo d'arte estemporaneo dato che la mostra ripercorre l'intera storia degli artwork di dnd si parla appunto di 50 anni di storia quindi davanti a ogni quadro potevi capire l'epoca cui apparteneva perché più si andava indietro nel tempo più era vecchia la gente che faceva parte del capannello di persone che si fermava a indicarlo inutile dire che anche qui ho fatto una quantità di foto inenarrabili e chi stava seguendo sui social ha visto perché un paio le ho condivise anche lì e sì c'erano i manuali della terza edizione rimaneva comunque da vedere ancora lo stand games e poi siamo riusciti a entrarci nel pomeriggio ma in realtà ci siamo anche poi tornati il mattino dopo perché io alle 10 avevo un appuntamento con mauro longo che era al games caffè a tenere delle dimostrazioni game caffè tra l'altro un'ottima idea perché hanno aggiunto una settantina un'ottantina di tavoli per le demo che effettivamente per chi va lì per il gioco di ruolo è qualcosa di estremamente utile perché normalmente dentro lo stand games i tavoli sono pochi anche difficile trovare posto senza per notare avere più tavoli demo è sicuramente qualcosa di ottimo è uno dei motivi per cui tantissima gente preferisce i modena play rispetto ai luca comics i bologna play perché da quest'anno non ho cambiato quindi ne riparleremo in seguito comunque games caffè ottima iniziativa una di quelle cose che spero replichino comunque io ero lì insieme a mauro per fare le firme sulle copie di scrivi la tua avventura a tutti quelli che l'hanno comprata tramite il link amazon che tra l'altro nell'occasione di questi luca comics fa un anno perché l'abbiamo presentata l'anno scorso e quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti a salutarci a farci complimenti e ovviamente a prendersi segnalibri sì ce ne sono ancora però ne ho già parlato alla nausa e scrivi la tua avventura se siete interessati c'è il link amano dei commenti non ne parlerò ancora in questo video usciti allo stand games però c'era ancora una cosa che volevo andare a vedere perché un po di voi mi hanno scritto per consigliarmi ed ero curioso sempre nell'ambito delle celebrazioni per il cinquantenario di dnd all'interno delle mura era stato praticamente allestito un dungeon e la possibilità di andare a vedere come è la rappresentazione fisica di un dungeon di dnd almeno da parte degli organizzatori non potevo perdermela soprattutto in questo periodo che stiamo parlando proprio del metodo del dungeon ed effettivamente era arredato proprio in uno stile dndesco tra l'altro io l'ultima volta che ero stato lì dentro è stato per un live di warhammer oramai una decina di anni fa quindi nonostante l'ambiente lo conoscesse il fatto che era stato riarredato del tutto rispetto a come me lo ricordavo sia fatto effetto fortunatamente anche qui essendo solo il secondo giorno c'era poca calca e tra l'altro all'interno del dungeon o anche allestito dei tavoli per giocare proprio al dnd ed erano per la maggior parte vuoti probabilmente la gente aveva prenotato dove ancora arrivare immagino a fare una quest che riguardi un dungeon non so che quest facevano ma se la quest non era del dungeon all'interno di cui la quest veniva effettivamente giocata è uno spreco di occasione e sì se ve lo state chiedendo in fondo al dungeon se era un drago sì era ovvio e con questo diciamo che concludiamo la gita di quest'anno ai lucca comics ovviamente ho visto ancora un sacco di altre cose voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno fermato mi hanno fatto i complimenti e anche quelli che non sono riusciti a trovarmi solo che se dovessi far vedere tutto il video dovrebbe ore io sono ancora morto per il viaggio non ho fisicamente le forze fisiche per montare un video così lungo mi dispiace anche perché un paio di persone che mi hanno chiesto se ero lì il venerdì ma quando si sono svegliati al mattino eravamo morti e poi quando siamo arrivati a lucca abbiamo visto che cominciava già ad arrivare la ressa si si vedeva dalla strada quindi dato che i nostri giri abbiamo fatti quello che dovevo comprare l'ho comprato abbiamo deciso semplicemente di girare la macchina e andarsene sì sono un vecchio cosa vi aspettavate quindi possiamo dire che lo speciale dei lucca comics per quest'anno termina qui come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo potete crescere il canale magari scrivetemi qui sotto cosa voi avete fatto ai lucca comics di quest'anno se c'è qualcosa che mi sono aperto e siete interessati a segnalarlo anche perché non ero l'unico a mandare foto sul gruppo telegram quindi so che c'è un'altra gente nella community in giro mentre c'ero anch'io e se siete interessati a far parte di quella community in descrizione trovate anche il link gruppo telegram server discord dove tra l'altro metto io manualmente le notifiche dei video quando escono così non ve li perdete e per il resto noi ci vediamo la prossima settimana quando riprenderà la programmazione regolare del canale dopo la pausa del mese degli speciali e riprenderà la rubrica del d20 system anche se in realtà più che di d20 system andremo a parlare di qual è il corretto atteggiamento nei confronti e le regole ma di questo ne parleremo la prossima settimana fino a quel momento io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video